consona ai loro interessi domanda ci sono stati casi in cui medium genuini attraverso i quali si manifestavano entità importanti a un tratto hanno smesso di tenere una vita spirituale consona ai loro interessi eppure le riunioni non sono terminate e le entità hanno continuato a manifestarsi perché i fratelli del cerchio attraverso andreina noi diciamo che questo non è vero voi credete che queste entità si siano manifestate ancora ma in realtà erano drammatizzazioni quando addirittura frodi coscienti da parte del medium il cui inconscio aveva in parte assorbito l'insegnamento dell'entità che prima si manifestavano e lo ripropone a modo suo voi ve ne potete accorgere osservando nel tempo le parole che sono dette che diventano ripetitive e meccaniche piene di contraddizioni e prive di nuove conoscenze